Se io sono io, se il mio essere è in funzione di quello che tu sei, se la mia vita è basata su quello che ti piacerà a te, sui valori che hanno gli altri, perché oggi il mondo vive in base a quello che dirà quello, quello che farà gli altri e in base ai like che riceverà su un post che lui mette, su una foto che metterà su Instagram o su Facebook o su qualsiasi social, io sono io perché tu sei tu, cioè il mio essere è in funzione di quello che sei te. Io faccio le cose in modo che piacerò agli altri, allora, e tu sei tu, il tuo essere è in funzione del mio essere. Cosa succede? Che io non sarò mai me stesso quello che sono veramente io e tu non sarai mai quello che sei veramente te. Ma se la mia esistenza, se la mia vita è in funzione di me stesso, quali sono le mie qualità, le doti, qual è il mio valore aggiunto che posso dare al mondo, come posso cambiare, come posso migliorare questo mondo, se io sono io perché io sono io, cioè il mio essere è in funzione delle miei valori, di me stesso, perché io sono qui al mondo, cosa posso dare a questo mondo, come posso migliorare questo mondo, e non in funzione degli altri, cosa piacerà agli altri, e il tuo essere è in funzione della tua vita, delle tue qualità, di quello che tu puoi fare per il mondo, allora io sarò io e tu sarai te. Ognuno sarà quello che veramente è, quello che dovrebbe essere veramente. Il problema cos'è? Quando una persona vive in funzione dell'altro e l'altro vive in funzione di me, né lui è quello che lui è veramente, né io sono quello che io sono veramente, siamo tutti e due dei fantasmi, siamo tutti e due dei mascherati, non siamo la nostra vera vita. Uno che non vive la sua vita nel suo vero essere pieno di se stesso, di quello che lui è, è un po' non Moshe, era bene e neanche Avram, ma vino. Ma quello che io avrei potuto essere veramente, e non lo sono stato, questo sì che mi preoccupa, se me lo chiederanno, perché io non sono venuto qua per passeggiare in questo mondo. La vita ha un significato. Ogni momento della vita ha un significato e ha una ragione di esistere e deve essere in funzione della nostra missione in questo mondo, quello di elevare questo mondo, di rettificare questo mondo, di trasformare questo mondo in una dimora per Hashem.